Sono Giacomo Cianferroni, responsabile degli impianti speciali per MEF, qui nel nostro spazio MEF Experience abbiamo cercato di creare un coinvolgimento tra la natura, l'efficienza energetica e quelle sono tutte le nuove tecnologie, quindi siamo partiti da quello che è l'esperienza domotica della gestione della casa attraverso l'automotica KNX, un'esperienza che ormai stiamo portando avanti da due anni, abbiamo fatto due anni fa nella nostra prima esperienza un piccolo stand e abbiamo deciso di allargarci e di fare tutto uno stand che potessimo coinvolgere una cucina, un'abitazione e una camera d'albergo. Tutto realizzato con tre tipi di visualizzazioni diverse e tutto con vari fornitori, proprio per far sì che il KNX porti avanti il discorso è che qualsiasi fornitore marchiato KNX può interagire tra di loro e possa essere utilizzato per utilizzi sia domestici che terziari che industriali. Nel fondo abbiamo realizzato quelle che sono le efficientazioni energetiche, quindi andiamo da quello che è il risparmio energetico del calore, il riciclo del calore, tutta la parte dell'energia rinnovabile, quindi fotovoltaico, solare termico e quello che poi tutte sono anche le stazioni di ricarica per le macchine e le biciclette elettriche, perché noi pensiamo come MF che il futuro, come vediamo qui, è un futuro verde, dall'automotica all'efficienza energetica, al solare termico, al fotovoltaico.